Ben trovati dati G della mobilità. A testaccio prosegue il cantiere per la manutenzione dei binari in via Marmorata, chiuso al transito l'incrocio con via Galvani, deviate le linee 718, 719 e 775 in arrivo da piazzale Departigiani e da piazzale Ostienze, soppresse due fermate in via Marmorata e una in via Galvani. In tema di cantieri inizieranno il 22 maggio dalla tangenziale Est all'altezza della Trionfale i primi interventi del piano lavori per il giubileo 2025, poi dai primi di giugno cantieri a Capannelli e quanto annunciato ieri dal sindaco Gualtieri nella commissione Capitolina per l'anno santo. Grazie al giubileo ha sottolineato il sindaco, sarà varato un piano di manutenzione straordinario della viabilità principale e municipale della città.